Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale! Oggi vi facciamo vedere tutti gli esercizi di saltezza Che facciamo? Che facciamo la prima delle mie mani Ok, qual è il primo Sara? La funzione da una destra Via! No, davanti al piede Davanti al piede Davanti al piede Mani sulla... Piena dritta Vieni a destra, vieni la mano così Vieni il cuore Vieni la spaccata con la gamba da destra Via! Tutta è giù in spaccata! Fare bene lì, tirai le gambe Vai! Dopo facciamo dieci su e giù con le mani girate Vieni la spaccata con le braccia avanti Poi siamo spaccata con le braccia avanti Vieni la spaccata con le mani girate Vieni la spaccata con le mani girate La spaccata con le mani girate Ad arco Ad arco Mami lontane Gamba davanti Sciolgo le gambe Ripetiamo tutto con la gamba sinistra Via Chi ha la gamba sbagliata? Merista Merista L'altra gamba Prima con che gamba l'hai fatto? Quale gamba avevi davanti? Quale gamba avevi prima? Allora metti l'altra Per bene Si ma mettiti dritta Meli guardalo Non mi lasse i problemi Per bene Si Per bene Per bene Per bene Per bene Poi adesso facciamo la spaccata frontale Ok Nocchia Adesso facciamo la schiacciatina unita Via schiacciatine Unita Tese con le ginocchia Adesso facciamo la spaccata frontale Adesso facciamo la schiacciatina aperta Sto scrocchiando da morire Spingete l'ombelico verso terra Sara, stai giù Sto scrocchiando da morire Adesso facciamo il ponte per sciogliere le spalle Ok Mettetevi vicino Pronti 3, 2, 1, ponte 10 palline Alla fine Chiara ci tira le spalle Ci tira sempre le spalle Ma lì hai sofferto molto? Tutti sti urli Vai per la schiacciata Ma lì hai sofferto che ci tira le spalle Ma lì hai sofferto che ci tira le spalle Quando lei mi tira Non so come faccio Ma mi buccia poco Solo una? Solo una Ma perché? Alla fine Musica 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 Ciao a tutti Ci rivediamo nel prossimo video Musica Musica